E' attesa lunedì la sentenza di primo grado del processo Dirti Soccer. Dopo la richiesta della Procura federale di 32 punti, poi corretti in 31, la società Rosso Blu vive questi giorni con grande apprezzione. Una richiesta abnorme che si spera sia drasticamente ridotta dai giudici. La squadra intanto è lontana dal clamore delle aule giudiziarie e pensa solo al risultato del campo, indipendentemente dal resto. Oggi intanto sul fronte mercato potrebbe essere il giorno di Danilo Bulevardi, il centrocampista ex Pescara, pallino da tempo del direttore sportivo Alessandro Battisti. Sul fronte delle uscite ha rescisso invece di comune accordo con il contratto con la società il giocatore Luigi Palestini. Domani intanto si aggregherà la squadra per gli allenamenti il difensore ex Pescara Emanuele Pesoli, tesserato dal club aquilano la scorsa settimana e guarito completamente dal risentimento al polpaccio che lo aveva fatto fermare dopo i primi allenamenti con il Rosso Blu. Un rinforzo di esperienza dal quale ci si aspettano grandi cose in questi ultimi mesi del campionato.